...noi della Fondazione di partecipazione NURNE, che vuole portare il nuragico, tutto ciò che rappresenta il nuragico per i sardi nel mondo, al centro dell'identità santa, dell'immagine del serpente. Con i sardi che possono partecipare attivamente a questo processo? Sì, perché l'archivio è tutto da costruire, nel senso che noi abbiamo, attualmente dentro ci sono circa 6.000 nuraghi, alcuni sono dobi, quindi bisognerà ripulirlo, però chiunque potrà entrare, compilare, inserire le proprie foto, video e quindi un lavoro fatto dai sardi per i sardi e per il mondo.